Ha ottenuto la percentuale di voto più alta dal ritorno della democrazia e guardando oggi Plaza de Macho si può facilmente capire il perché. Migliaia di persone si sono radunate infatti per festeggiare la vittoria di Cristina Kirchner, la presidenta, come affettuosamente chiamata in patria, eletta alla guida dell'Argentina per la seconda volta consecutiva. Una vittoria ha già annunciato alle primarie di agosto quando la Kirchner ottenne il 50% dei voti lasciando molto indietro i suoi avversari. Oggi Buenos Aires è una città in festa, tamburi, balli e canti si sentono quasi in ogni angolo e soprattutto hanno riempito Plaza de Macho, la stessa piazza dove quasi un anno fa la popolazione si era radunata per dare l'ultimo saluto a Nestor Kirchner, amatissimo presidente morto il 27 ottobre scorso. La festa davanti alla Casa Rosada, la sede del governo, è andata avanti fino a notte inoltrata vista anche l'incredibile presenza dei giovani durante le celebrazioni. Questo sicuramente è uno dei risultati della politica del Kirchner, hanno riportato i giovani in piazza. Ora l'attenzione su cosa farà la presidenta in questo mandato, il primo che affronterà davvero sola ma con una maggioranza al congresso che le permetterà di approvare qualsiasi riforma senza nemmeno consultare l'opposizione. E c'è chi già parla di voler cambiare la norma costituzionale che prevede il limite degli omandati consecutivi per permettere alla presidente di candidarsi una terza volta.